Tricase si estende tra le ultime propaggini sudorientali delle Serre Salentine. Il territorio rientra all'interno del parco regionale Costa, Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Un patrimonio ricco di storia e di antichi legami con il Levante, come testimonia all'abbazia bizantina del mito, che ancora oggi svetta con la sua torre nelle campagne Tricasine. L'intrecciarsi di differenti vicende e tradizioni storiche rendono Tricase un unicum urbano nel contesto dei comuni salentini. Con la famiglia principesca De Gallone, Tricase diviene nel seicento il centro amministrativo di un vasto territorio feudale, che da salve si estendeva verso Supersano e Nociglia. Le fortune del casato risplendono ancora oggi nelle prestigiose committenze artistiche conservate nelle chiese cittadine, opere di alto valore realizzate da rinomati artisti della Serenissima Repubblica di Venezia. Nel Novecento Tricase diviene parte fondamentale delle attività di produzione e lavorazione dei tabacchi nella provincia di Lecce e sviluppa nel corso del XX secolo un'attitudine economica al terziario. Ad oggi, con i suoi 17.000 abitanti, si attesta nel territorio del Capo di Leuca come centro di servizi che spaziano dall'istruzione al commercio, alle piccole imprese, ai trasporti e in particolar modo al settore sanitario, con il suo polo ospedaliero d'eccellenza. Il centro storico di Tricase conserva ancora il fascino del passato, dove l'edilizia popolare di fine Cinquecento fa sintesi con i sontuosi palazzi delle famiglie aristocratiche del paese. Anticamente, la strada principale del borgo era attraversata dai numerosi pellegrini diretti in viaggio verso il santuario della Madonna di Finibus Terre, a Santa Maria di Leuca. Sulla strada si può ammirare la chiesa tardoquattrocentesca della presentazione di Santa Maria al Tempio. Di fronte ad essa, vi è la casa palazziata, appartenuta alle famiglie Montano-Pisanelli. Ancora oggi, il centro storico di Tricase, con il suo alveare di vicoli e stradine, permette di fare un salto nel passato. Questo grazie a scorci da altri tempi, che affascinano oltre che i visitatori di luoghi lontani, anche i Tricasini stessi. Grazie a tutti.